Purtroppo, cari ragazzi, queste zone rosse e arancioni sparse un po' per tutta Italia ci costringono ad andare in diretta da postazioni, non lo so, come posso dire, lontane dal nostro studio, piuttosto che stravaganti. Ci stiamo reinventando un po' tutti quanti noi nel mondo della radio. Stiamo cercando di capire come andare in diretta in modo gratuito, se possibile, anche a distanza. Voglio presentarvi oggi quattro diversi siti web barra applicazioni barra software, diciamo, che vi permettono di andare in diretta, con lo studio, a distanza e, se vogliamo, anche in modo creativo. Parlo in radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi. Allora, parto subito col più professionale, cari ragazzi, IPDTL. IPDTL è un servizio a pagamento che vi permette di andare in diretta da una postazione esterna, direttamente in radio, ovviamente, con una qualità elevatissima. È utilizzato da moltissime radio italiane, comprese ad esempio Radio 105, che ne ha fatto grandissimo uso durante questa pandemia per i propri speaker. È possibile, infatti, connettere direttamente un microfono USB al nostro software di IPDTL, oppure un mixer, oppure qualsiasi altra cosa, per inviare alla postazione principale tutto il nostro audio in tempo reale e con una qualità veramente eccellente, cari ragazzi. IPDTL è sicuramente, tra le grandi radio, quello più utilizzato, quello più scaricato, quello più acquistato, perché IPDTL, dovete sapere che funziona tramite abbonamento mensile. Con un abbonamento mensile avremo la possibilità di gestire più speaker, più postazioni da cui ricevere audio e abbiamo anche diverse cose, diciamo, da poter scegliere se inserire o meno nel nostro pacchetto per pagare più o meno e per arricchire più o meno sempre, ovviamente, la nostra esperienza sul loro sito. Super consigliato se avete budget quantomeno elevati per la vostra trasmissione in esterna e se non volete, ovviamente, rinunciare a qualità e ritardo zero. Passiamo ora ad una versione di IPDTL che in realtà non è un IPDTL, o meglio, non fa parte della famiglia IPDTL, però devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche perché, vi ripeto, anzi, vi dico, è gratis, sono rimasto piacevolmente sorpreso da CleanFeed, cleanfeed.net. Ho sempre utilizzato questo io per le mie dirette in esterna, per far connettere Michele da una postazione esterna, magari mentre io ero qua in studio, o da casa sua, ovviamente, con questa zona rossa, mentre io ero qua in studio. Non mi ha mai deluso, devo dire, è sempre andato perfettamente, l'audio è pulito, chiaro, non perde nulla. Grazie al Rode NT-USB di Michele è possibile collegarlo direttamente a CleanFeed e avere una qualità del suono veramente pulita, limpida, senza problemi, eccezionale. Bisogna avere, ovviamente, anche una buona connessione, perché CleanFeed ti permette di inviare fino a 320kbps per ogni sessione. Il problema è che poi ci vuole anche una connessione, sia in invio che in ricezione, che possa permettere, chiaramente, un invio di dati così alto, che per chi abita magari in una città molto fruita, come Milano, Roma, Torino, insomma, o comunque dove c'è una bella fibra, non ci sono sicuramente problemi. Noi, già qua nei nostri paesini, ogni tanto scatta, quindi ci vuole una buona connessione, ma una volta che avete una buona connessione, nessun problema. CleanFeed vi permette di avere l'account gratuito e quindi utilizzarlo esattamente come faccio io e Michele, inserendo quante persone volete per creare proprio una conversazione e anche un podcast a distanza senza problemi, mentre invece la versione Pro vi permette, tra le tante cose che potete fare, di aumentare ancora di più la qualità dell'audio, proprio perché ovviamente l'invio a 320 è una feature Pro, dovete essere Pro per poter inviare il vostro audio 320 ad una postazione, e vi permette anche la versione Pro di registrare quello che state dicendo in CleanFeed direttamente in un audio in altissima qualità da scaricare alla fine della sessione. Questo è ancora più utile, torno a dirvi, nel caso in cui dobbiate registrare un podcast a distanza e non avete un mixer sotto mano. CleanFeed vi fa da mixer, è sufficiente inserire tutte le persone, regolare i vari volumi e potrete registrare il vostro podcast. Voglio entrare ora nella parte creativa di questo podcast, sì perché ho pensato che ci sono anche altre cose carine, volendo che si possono usare per andare in diretta direttamente, anche volendo col proprio mixer insieme a persone connesse a distanza. La prima è Discord, probabilmente molti di voi lo conosceranno, non è fatto per fare questo, è fatto per parlare tutti insieme mentre si sta giocando ad un gioco. Discord è molto utilizzato tra i gamer, perché ovviamente mentre io gioco a un gioco magari non c'è la connessione interna come può essere ad esempio in Fortnite in cui io comunico con gli altri giocatori, allora ho bisogno di qualcosa che mi permette di comunicare con loro in tempo reale. La qualità dell'audio è veramente buona ragazzi, e quindi se voi settate nelle impostazioni di Discord, e questa è soltanto una mia idea, però è completamente gratuito e potrebbe essere funzionale. Se voi settate nelle impostazioni di Discord come cattura il VoIP, il canale VoIP del vostro mixer e come invio sempre il canale VoIP, questo si comporterà come un canale di chiamata, e quindi l'interlocutore o gli interlocutori sentiranno tutto quello che esce dal mixer, anche in alta qualità, e voi potrete ricevere il loro audio da mandare poi in onda. Secondo me funziona benissimo. Ultimo, ma non di certo per importanza, cari ragazzi, rivoluzione. Avete un Rode Rodecaster Pro, il mixer Rode, che permette di connettere un telefono via Bluetooth al vostro mixer, allora potete sicuramente sfruttare quello che è il social del momento, Clubhouse. È possibile utilizzare Clubhouse, infatti, per connetterlo al vostro Rode Rodecaster Pro, e fare in modo che chi è connesso, chi è salito con voi sul palco di Clubhouse, tra virgolette, a chiacchierare, sia anche in onda nel vostro podcast, sia anche in onda nella vostra radio. E questa è una cosa molto interessante, perché se fate un programma talk, e quindi magari avete un'oretta o un'oretta e mezzo, o due ore in cui nella vostra radio si parla e basta, la vostra audience può unirsi sia su Clubhouse, e quindi ascoltarvi, che in radio. Ma qual è la cosa ancora più figa, cari ragazzi? Che chi vi sta ascoltando su Clubhouse, se l'avete connesso via Bluetooth al vostro Rode, lo sentirà con la qualità della radio, perché non sarà più un audio telefonico. Ciò che invierete a Clubhouse sarà proprio un audio bello, puro, pieno da mixer. E l'altra super grandiosa fantasticheria, diciamo, è il fatto che qualcuno, se alza la mano, e volete farlo intervenire, può intervenire. E cosa succede? Ovvio, interverrà su Clubhouse, ma interverrà anche in radio, interverrà anche nel podcast. Quindi si crea, secondo me, un legame con tutti gli ascoltatori, senza bisogno, vi ripeto, che questi ultimi chiamino fisicamente la radio, o mandino un vocale alla diretta, che secondo me è unico. Clubhouse è veramente il social della rivoluzione. È possibile utilizzarlo, secondo me, anche per questo genere di cose. Chiaro, se inviate musiche, eccetera, cose confidenziali, quindi dirette in esterne, vere e proprie, non vi consiglio Clubhouse. Piuttosto, se proprio volete fare gli stravaganti, utilizzate Discord con un server privato, o CleanFeed, che nessuno chiaramente conoscerà il codice della vostra stanza, e potete farlo in tutto anonimato. Altrimenti, se volete coinvolgere la community, fare qualcosa di particolare, Clubhouse è sicuramente quello che fa il caso vostro. Niente, cari ragazzi, questa era solo una mia idea di come poteva essere gestita una diretta in esterna, un intervento meglio che arriva in esterna. Io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo podcast di Parlo in Radio. Vi aspetto ovviamente lunedì prossimo. Vi invito a seguire Omega Radio trattino basso, la mia radio su Instagram. Vi invito a seguire il podcast su Instagram. Se avete qualsiasi domanda, info, chiocciola, il podcast punto com. E per quanto mi riguarda, ci si sente lunedì prossimo, sempre alle ore 15.30. Ciao! Parlo in Radio, il primo podcast in Italia che ti fa entrare nel mondo della radiofonia a 360 gradi. Iscriviti e resta aggiornato sui nuovi episodi.